Ciao a tutti, oggi vedremo come realizzare un timballo di pasta con le melanzane. Iniziamo subito. La prima cosa da fare è tagliare la nostra melanzana. Prendiamo la melanzana, la laviamo, andiamo a togliere il picciolo e andiamo ad affettarla in modo sottile. Mettiamo le nostre fette di melanzana in un piatto. Le saliamo e adesso andiamo a friggerle. Guardate come. Friggiamo le nostre melanzane infarinate in abbondante olio di arachidi. Le nostre melanzane sono leggermente dorate, le andiamo a scolare su della carta assorbente. tagliamo la parte iniziale della melanzana a cubetti. La andremo a friggere e la insediremo nella nostra pasta. infariniamo le nostre melanzane a cubetti e le friggiamo. le nostre melanzane a cubetti sono pronte, le andiamo a scolare su della carta assorbente. prepariamo la nostra salsa pomodoro. Mettiamo in una pentola dell'olio extravergine di oliva, della cipolla fritata, aggiungiamo delle foglie di basilico e facciamo soffriggere il frutto. aggiungiamo adesso la nostra pastata di pomodoro. Mettiamo il sale e lasciamo cuocere il frutto. per la nostra pasta andremo ad utilizzare della scamorza affumicata tagliata a cubetti, in questo modo. aggiungiamo un'altra partita, aggiungiamo la sporco, combinazione le sfoggiere il frutto. aggiungiamo un po' di stile, aggiungiamo il frutto, aggiungiamo un Carol. edo, aggiungiamo il frutto, aggiungiamo un pari, aggiungiamo l'olio e aggiungiamo il frutto. per il nostro timballo di melanzane serve uno stampo da giambella che andremo ad oleare e a mettere del pane grattugiato vediamo come con l'aiuto di un pennellino andiamo a spennellare con il nostro olio di seme mettiamo poi all'interno del pane grattugiato in modo da foderare il nostro stampo in questo modo con le nostre melanzane fritte andiamo a rivestire il nostro stampo in questo modo guardate ok 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 il nostro stampo adesso è pronto possiamo anche foderare gli stampini monoporzione facendo la stessa cosa guardate tra poco vedremo il risultato finale andiamo a condire la nostra pasta con la salsa pomodoro la becciamella andiamo a mettere all'interno del basilico le melanzane che abbiamo soffritto del parmigiano una manciata di uova sode e la nostra provola affumicata e andiamo 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 a mescolare i il tutto andiamo a riempire il nostro stampo con la pasta andiamo a pressare un po' la nostra pasta all'interno dello stampo andiamo a pressare un po' la nostra pasta all'interno dello stampo Chiudiamo adesso con le melanzane. Adesso mettiamo in forno a 180 grammi per circa 20 minuti, tra poco il risultato finale. Vediamo come farcire il tortino piccolo. Mettiamo all'interno la nostra pasta. E andiamo a chiudere le nostre melanzane. Mettiamo in forno a 180 gradi per circa 15-20 minuti e il tortino sarà pronto, tra poco il risultato finale. Dopo circa 20 minuti di cottura, ecco il nostro timballo che è pronto. Adesso andiamo a sformarlo in questo modo, guardate. Metto il piatto sopra e vado a girare il mio timballo. Dopo il piccolpetto e il nostro timballo, eccolo qua, è pronto. Il nostro timballo è pronto. Andiamo a mettere della salsa pomodoro sopra. E delle foglioline di basilico. Adesso vediamo come sformare il nostro tortino piccolo. Mettiamo in un piatto una base di pomodoro e adagiamo al centro il nostro tortino. Mettiamo un po' di salsa pomodoro sopra, una fogliolina di basilico e il nostro timballino è pronto. Se questa ricetta vi è piaciuta potete consultare le altre su www.uncucinacolloschef.net Ciao, alla prossima ricetta!